La mia madre che chiamava nella televisione quando si sentì, si sentì che le walle di Berlino sono distruttate dalla gente, perché l'idea senza il mercato e la struttura commerciale non è buono, ma per un paese questo è anche la rappresentazione delle possibilità. Era un lavoratore, quindi inventò il telefono per parlare nel teatro. Un genio! Penso che la flaga dei Stati Uniti non è solo una flaga di un paese, ma è un messaggio universale della libertà e della democrazia. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi! Please visit the website. Grazie! Grazie!